Buonasera, per chi non mi conosce sono Donato, Donato D'Arigutino. Ci tengo a presentare che rappresento in modo particolare il gruppo Frates Donatori Sangue, ma è altrettanto vero che sono impegnato in diverse associazioni che ci sono nel nostro paese. Anche il gruppo Frates, come Teleton, ha un obiettivo primario, salvare vite umane. Infatti il sangue che viene raccolto dai nostri donatori viene messo a disposizione delle persone che ne hanno necessità e quindi anche noi contribuiamo a salvare vite umane. Nel nostro paese ci sono ben 800.000 persone che vengono salvate grazie alle trasfusioni di sangue. È un numero rilevante. Però il problema è un altro, che le donazioni sono in un trend negativo oramai da diversi anni. Pensate che nel 2016 e 2017 abbiamo perso ben 70.000 donazioni. Quindi è necessaria una mobilitazione generale. Quindi invito tutti i presenti che si possono iscrivere al gruppo, che lo possono fare le persone da 18 ai 60 anni. Inoltre le persone che superano quest'età possono collaborare a trovare nuovi donatori. Non dimenticate una cosa, che il sangue c'è solo se viene donato. Grazie. Grazie.